Accanto a me il sindaco di Condofuri, Salvatore Mafrici. Buonasera. Buonasera e grazie a voi. Durante il convegno si parlava di mafia, di indrangheta, del libro in cui c'è stata un'attenta analisi dei fatti che sono accaduti in passato e lei ha parlato anche che si sta svolgendo a Condofuri un lavoro di attenta ricerca sui fatti di mafiosi che sono avvenuti nel corso del tempo. Ne vuole parlare? Sì, assolutamente. Noi riteniamo che con De Libera, quello di Consiglio Comunale, ufficialmente aderiamo al 21 marzo promosso e organizzato dall'Associazione Libera che è il 21 marzo come data simbolica dell'inizio della primavera, quindi il risveglio delle coscienze, giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Aderiamo ufficialmente, tra l'altro sono due anni che il gonfalone simbolicamente, con me in forma ufficiale, con la fascia tricolore, viene portato. Sono due anni da due diverse realtà associative che proprio per promuovere, si fa un percorso con chi ogni anno viene alla giornata della memoria proprio sui temi dell'antimafia sociale, la legalità, la giustizia eccetera e della memoria che si deve fare poi impegno concreto nel quotidiano ciascuno per la propria parte, proprio per compattere, finalmente sconfiggere il fenomeno. Il lavoro quindi che poi nell'ultimo anno ci è venuto in mente è di fare memoria riprendendo anche le storie, perché vi sono, le sappiamo, le grandi storie, le storie di persone così illustri, servitori dello Stato e quali va il nostro sempre più alto ringraziamento e riconoscimento. A queste vi sono storie meno note che magari, e noi già abbiamo scoperto, qualcuna la stiamo approfondendo anche con molto sempre tatto per le tragedie che quelle famiglie poi hanno subito. A poco a poco vogliamo farle in qualche modo uscire fuori, che la memoria diventi un po' anche collettiva. E da lì noi riteniamo, anche perché no, con percorsi poi nelle scuole, insomma ecco come la cultura, l'aspetto culturale attraverso questa memoria, queste storie che diventano patrimonio collettivo di una comunità, la partita della comunità locale, poi ci possono portare a un maggiore impegno. Ecco quello, l'ho detto prima, l'intervento che ho fatto durante la presentazione del libro, è proprio quel pugno nello stomaco, perché spesso noi dobbiamo uscire un po' dalla retorica, sia della memoria, della retorica dell'antimafia, parolaia, ecco un po' troppo. Noi di più tutti ci dobbiamo impegnare nel concreto, nella continuità, nella diversità pure dei ruoli che ciascuno ricopre, però insieme e ripeto concretamente. Quindi questo è un po' il lavoro che si è avviato. Lo faremo pure a breve istituendo in Consiglio Comunale una commissione proprio consigliare, che tra le altre cose, a parte i temi del riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati, della gestione degli appalti nella trasparenza, nella massima legalità, nella massima trasparenza, del discorso anti-racket e anti-sura, quindi aiuto alle imprese sane, ecco di chi denuncia magari il pizzo che ha denunciato, che va premiato, aiutato anche con meccanismi di premialità che si possono trovare attraverso i nostri regolamenti comunali, così ancora meglio con leggi dello Stato che speriamo si facciano e si facciano presto e meglio e bene su questo fronte. Quindi tutto ciò, a parte questo, la commissione consigliare vuole approfondire proprio questo tipo di storia, anche l'evoluzione, l'aspetto evolutivo. Il libro ce lo insegna, c'è veramente passaggi importanti su come si è evoluta e cambiata rispetto nei nostri contesti, ecco l'andrangheta. Si parlava prima di rete, viso pubblico, che cosa si intende? Sì, noi aderiamo, abbiamo ancora circa un annetto, io faccio parte poi dell'ufficio di presidenza nazionale di questa associazione, una rete nazionale fatta attualmente da circa più di 200 enti locali, comuni, province e regioni che stanno insieme per promuovere buone prassi amministrative a difesa e tutela della trasparenza nella pubblica amministrazione e la legalità per la giustizia sociale, l'antimafia, insomma. E quindi anche in questo caso stare insieme per cercare, insieme da nord a sud, anche in questo caso, usciamo un po' pure dalla logica che ormai il fenomeno, il problema ce l'abbiamo di sicuro, è ben piantato purtroppo, ecco come dire, la malapianta parte da qui, ce l'abbiamo qui, le radici rimangono più qui nel territorio, nel meridione, insomma la Calabria, l'andrangheta che è diventata la mafia più potente, più organizzata, più ricca, di sicuro parte, ma ormai è coinvolto, lo sappiamo e non ci dimentichiamo, è ormai da nord a sud che il problema esiste e da nord a sud questa rete avviso pubblico è commetta insieme agli enti locali per promuovere percorsi a livello appunto amministrativo più che altro e quindi anche in questo caso gruppi di lavoro che approfondiscono e promuovono e fanno proposte a livello di commissione parlamentare antimafia, sempre sui temi che dicevo prima, per ecco finalmente dimostrare con i fatti eppure in Calabria la rete si è rafforzata, si sta rafforzando ecco di diversi comuni che quanto prima stiamo per, faremo ecco, organizzeremo anche un coordinamento regionale di avviso pubblico, io dicevo ecco rispetto pure agli episodi che sta subendo, ecco brutti, spiacevoli, atti di intimidazione, ecco del presidente dell'ente parco da Spromonte ecco di ragionare anche sull'eventuale adesione e sta ragionando insieme ecco su un'adesione per rafforzare sempre più una rete che vuole in concreto ecco combattere le mafie. Quindi anche per avere un regolamento migliore, per avere una maggiore coesione, promozione ecco del territorio? Sì, assolutamente sì, noi la commissione che dicevo prima, proprio il nome che si pensa di dare, poi ecco sono in via di approfondimento con le forze maggioranza e minoranza ecco ci ragioneremo assieme, ragioniamo ecco sul nome stesso di parlare di cultura, di promozione la cultura, della legalità, di sviluppo sostenibile e di coesione territoriale, cioè per noi ecco sradicare finalmente, spiantare definitivamente ecco questa, dicevo prima, ma la pianta, l'andranghe, insomma la criminalità organizzata nel nostro territorio, questo sì che ci può dare quel di più in termini davvero ecco di sviluppo e di rilancio ecco il nostro territorio, finalmente tutte le potenzialità concretizzandole, sfruttandole appieno, non avendo questa che è una cappa, insomma è una cappa che si alimenta pure di quella ecco prima e durante anche in questo caso ecco l'iniziativa bene si è fatta, si è parlato ecco di mafia, di indranghe nel nostro caso, di criminalità organizzata che uccide, che violenza e sopraffazione, che cultura solo degli affari, del denaro sporco a tutti i costi, che si nutre di una mafiosità che è diversa dalla mafia ma che si nutre di quella, mafiosità latente, di atteggiamenti, di cultura ecco che purtroppo ecco anche dal mio osservatore in questo momento da sindaco onestamente ecco si tocca con mano quotidianamente, ecco non l'essere in quel caso ripeto ma una cultura ecco del rifiuto un po' della regola anche spicciola, banale eccetera, è qui che dobbiamo, è lì la scuola può fare tanto e la stiamo interpellando, sollecitando e devo dire che diversi percorsi già sono stati avviati in sinergia, deve fare tanto l'associazionismo, la parrocchia, le parrocchie, insomma la chiesa, le chiese diciamo ecco dobbiamo ecco di più lo ripeto tutti e ciascuno per la propria parte fare per spiantare definitivamente questo che potrebbe darci quello sdrancio ecco che serve in termini poi di sviluppo sostenibile, legale e di coesione territoriale. Ci saranno altre iniziative che continueranno a combattere la mafia nel territorio di Condofuri e anche delle zone limitrofe insieme ad altri sindaci dell'area grecanica? Sì, su questo ecco i sindaci, proprio oggi c'è stata una riunione pure dell'associazione dei sindaci e rispetto a questo tema gradualmente insomma avviando percorsi seri insomma di coinvolgimento, di partecipazione dal basso e c'è l'intenzione ovviamente di tenere altissima già a partire da domani perché sarà un altro di incontro sempre che prende diciamo spunto così l'occasione e voler manifestare il sostegno e la vicinanza al Presidente dell'Enteparco di nuovo minacciato era proprio qui ecco la settimana scorsa, nasce dal basso con l'associazionismo che l'ha promossa il Comitato Civico Procondofuri in particolare ecco si è fatto promotore, organizzatore di un'iniziativa dove ecco noi sindaci ci saremo nuovamente per ecco anche in quell'Enteparco dove una comunità del parco, tanti comuni ecco che vi aderiscono ecco stare vicino in questo momento al Presidente ecco più volte minacciato significa far funzionare meglio quello che è un contesto importante anche lì di rete che può e deve promuovere sviluppo contro e che quindi lo torno a ripetere assolutamente in antitesi con un'idea invece di sviluppo solo per pochi per i pochi mafiosi e andranghettisti che ripeto non è sviluppo in quel caso ma ecco quindi che i sindaci saremo in rete assieme per promuovere il vero sviluppo legale e sostenibile come dicevo. Dunque la lotta continua? Assolutamente sì, grazie. Grazie a lei, alla prossima. Grazie, arrivederci.